Finalmente l'ho visto, finalmente ho avuto modo di recuperarlo, lo stavo davvero attendendo con curiosità e trepidazione perché purtroppo è un film che io non ho avuto la possibilità di andare a vedere al cinema nel momento in cui usci in sala alcune settimane fa, diverse settimane fa credo durante le festività natalizie, l'ho perso, purtroppo questo sarà un rimpianto che mi porterò dietro e tra l'altro lo confermo proprio dopo aver visto questo film su Disney+, perché è appunto uscito su Disney+, davvero lo stavo attendendo ed è davvero un grande, grandissimo film, grandissimo film di un cineasta immortale, eterno, leggendario come Steven Spielberg. Adesso sigla e poi ne parliamo. Ed allora bentrovati in questa nuova video recensione, prima di iniziare come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto ed attivate la campanella per ricevere da YouTube le notifiche tutte le volte che pubblicherò un nuovo video rimanendo così aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e poi cliccate sulla campanella ed inoltre se mi volete ulteriormente supportare a costo zero semplicemente facendo i vostri acquisti su Amazon io vi invito a farli partendo dal link che trovate in descrizione perché perché è un mio link di affiliazione e se voi lo utilizzate per fare qualunque vostro acquisto su Amazon non necessariamente a tema cinema a voi non cambia nulla, non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da Amazon al sottoscritto. Quindi qualunque acquisto dovrete fare su Amazon fatelo a partire dal link che trovate in descrizione. Ma passiamo a parlare del film che voglio recensirvi oggi finalmente finalmente ho avuto modo di recuperarlo davvero è un film che io pensavo di dover recuperare attraverso l'on video perché è uscito nelle sale durante le festività natalizie quindi stiamo parlando di non più di due mesi e mezzo fa all'incirca due mesi fa quindi speravo di poterlo vedere presto ma non così presto. Perché perché in realtà prima di uscire in un video è stato distribuito proprio a partire dal 2 di marzo sulla piattaforma di streaming Disney Plus e quindi io non ho visto davvero non ho avuto più alcune priorità dovevo guardare questo film volevo recuperare questo film e per fortuna davvero l'ho recuperato e ne sono me ne sono innamorato follemente alla prima visione perché siamo di fronte forse davvero ad un capolavoro. Questo lo direi il tempo stiamo parlando ovviamente di West Side Story di Steven Spielberg. Ora inutile dire che ci troviamo di fronte alla nuova trasposizione di questa opera musicale che era già stata portata al cinema negli anni 60 nel 1961 con un film che è davvero da considerare un grande capolavoro grande film pluripremiato anche agli Oscar. E dopo 60 anni dopo 60 anni esatti nel 2021 Spielberg ha deciso di realizzare una nuova trasposizione cinematografica di quella che è l'opera musicale in questione. Tra l'altro Spielberg non ha mai voluto parlare di un vero e proprio remake lui non ha considerato il proprio film come un remake di quello degli anni 60 lui ha semplicemente parlato di una nuova trasposizione cinematografica di quest'opera musicale che è stata portata anche centinaia migliaia di volte a teatro. Quindi per quanto ci siano chiaramente anche delle somiglianze con il film degli anni 60 per quanto ci siano delle caratteristiche in grado di accumularle però Spielberg ha voluto proprio non prendere le distanze però non ha voluto considerare il proprio film come un remake della prima trasposizione degli anni 60. È un film a sé stante ed infatti ci sono tutta una serie di differenze anche tra questo film di Spielberg e quello degli anni 60. Ora io non farò spoiler anche se vabbè diciamo che il rischio spoiler per un film del genere è relativo però magari fra di voi potrebbero esserci persone che non hanno mai visto il film West Side Story del 61 potreste non conoscere la storia non averlo mai visto a teatro magari non avete ancora visto neanche questo di Steve Spielberg quindi ne parlerò in maniera generale per quanto riguarda la trama proprio per non spoilerarvela nel caso in cui non conosciate soprattutto il finale di questo film. Di cosa parla in linea generale West Side Story? Il film racconta la storia di due bande che si contendono il dominio di un quartiere di New York il West Side appunto. Da una parte abbiamo i Jets che sono rappresentati da ragazzi da giovani ragazzi di etnia caucasica quindi bianchi e dall'altra parte i Sharks i squali che invece sono portoricani. Si contendono appunto questo quartiere e tra l'altro se lo contendono in maniera sempre più feroce in maniera sempre più intensa tanto che infatti arrivano anche a scontrarsi gli uni con gli altri e tutto questo in realtà poi va a fare da cornice da corollario a quella che è la storia d'amore tra Tony che appartiene ai Jets e Maria che invece appartiene ai portoricani. Due ragazzi che quindi devono fare i conti proprio con questa differenza di appartenenza quindi sono due ragazzi che devono anche superare gli ostacoli, le diffidenze da parte di coloro che come dire vivono la loro realtà quotidiana. Quindi i Jets da una parte e i portoricani dall'altra però nonostante tutto si cercano, si innamorano e fanno sì che la propria storia d'amore possa sempre di più evolversi. In una maniera che poi non vi posso raccontare appunto per non fare spoiler fino alla fine. Ora davvero io con i remake, fermo restando che questo appunto non credo sia da considerare un remake, ci vado sempre con i piedi di piombo in genere proprio da un punto di vista di una forma mentale mia perché so benissimo che nel momento in cui ci si approccia ad un remake di solito i meccanismi mentali che scattano in tutti, tutti davvero, sono due. Innanzitutto la diffidenza, la diffidenza proprio per i remake perché per definizione un remake non essendo un'opera comunque totalmente originale fa storcere un po' il naso e chiaramente in questo caso, secondo elemento, è il fatto che negli anni 60 era stata realizzata davvero un'opera d'arte nel 1961 West Side Story segna la storia del cinema, segna la storia dei musical. Ora tra l'altro io non sono un grande amante dei musical, chi mi segue da un po' di tempo anche nella mia pagina Facebook ma l'ho detto anche qui nel mio canale, io non sono un grande amante dei musical, è probabilmente anche il genere che preferisco di meno tra tutti quelli che appartengono appunto alla storia del cinema, però è anche vero che da un punto di vista strettamente oggettivo non posso non riconoscere la grandezza di determinati film, di determinate opere, per quanto io non le inserirei mai tra i miei film preferiti di sempre, però ecco bisogna essere un minimo lucido e razionale. West Side Story è un capolavoro degli anni 60 intendo, ma così come ce ne sono degli altri in realtà, non saranno in grado mai di conquistarmi al 100%, non riusciranno mai ad entrarmi definitivamente nel cuore, ma proprio da un punto di vista emotivo, però va benissimo, cioè nel senso stiamo parlando di grandi opere d'arte, di grandi capolavori del cinema. West Side Story è uno di questi, quello degli anni 60, ed è ovvio che anche non essendo un grande amante dei musical, nel momento in cui io so che sta per arrivare un altro film di questo tipo, nel momento in cui so che sta per arrivare un'altra trasposizione di West Side Story, sto un minimo, come dire, in allarme, anche se poi in realtà alla regia abbiamo un mostro sacro, perché? Perché abbiamo Steve Spielberg, quindi dall'altra parte, come dire, se una parte del mio cervello mi faceva stare in allarme, dall'altra parte c'era invece quella parte di cervello che mi diceva, beh, Steve Spielberg è il regista, quindi uno che comunque non è l'ultimo degli scemi, sa un minimo come dover trattare il materiale a disposizione, è un uomo che ha realizzato grandissime, grandissime pellicole, grandissimi film, non credo ci sia neanche bisogno di doverlo presentare in alcun modo, quindi in qualche modo, in qualche modo ero fiducioso, diciamo, relativamente al fatto che Spielberg potesse realizzare qualcosa perlomeno di dignitoso. In realtà Spielberg mi ha smentito, perché? Perché non ha realizzato un film dignitoso, ha realizzato davvero un grandissimo, grandissimo film. Ora, io innanzitutto voglio dire che non farò nessun tipo di paragone tra i due film, non farò nessun tipo di paragone tra il film degli anni sessanta e il film di Steven Spielberg, perché? Perché credo sia fondamentalmente ingiusto fare dei paragoni, soprattutto poi tra due film così lontani nel tempo l'uno dall'altro, perché? Perché questa storia degli anni sessanta probabilmente non aveva tutta una serie di strumenti, tutta una serie di mezzi a disposizione, chiaramente regista e staff che invece avevamo, che abbiamo oggi e che sicuramente aveva a disposizione Steven Spielberg per realizzare il suo film, però è anche vero che dall'altra parte, come dicono in tanti, la magia che avevano quei film, la magia che avevano quei musical, la magia del cinema degli anni cinquanta, degli anni sessanta, sicuramente non è presente quasi, diciamo, anche se non voglio generalizzare, non è presente nei film di oggi, nella stragrande maggioranza dei casi. In realtà, in questo caso, io direi anche che il film di Steven Spielberg ha una magia che mi ricorda tantissimo, proprio, le pellicole di decenni fa, degli anni sessanta, degli anni cinquanta. Perché? Perché Spielberg, da grande uomo di cinema, qual è? È stato in grado di, innanzitutto, non stravolgere totalmente quello che è l'impianto complessivo della storia, per quanto ci siano in realtà comunque delle differenze con il film degli anni sessanta. Ora, il film del sessanta io in realtà lo dovrei rivedere perché non lo vedo da tanto tempo, però, per esempio, ci sono delle differenze sulla successione temporale di alcune canzoni, ci sono delle differenze anche sugli interpreti che cantano determinate canzoni, rispetto appunto al film degli anni sessanta. Credo che ci siano dei cambiamenti proprio anche da un punto di vista del coinvolgimento dei vari protagonisti e del ruolo di alcuni di loro, soprattutto in realtà dei co-protagonisti, però, davvero, tutto questo, continuo a dire, lascia il tempo che trova. Ha un'importanza relativa, perché? Perché i due film devono essere considerati separati tra di loro, è inutile che andiamo a fare il paragone tra le due pellicole, perché? Perché quello degli anni sessanta è un capolavoro, è quello chiaramente assodato, nessuno potrà mai dire che West Side Story del 1961 sia un film da dimenticare, da buttare perché è stato fatto quest'altra pellicola da parte di Spielberg. Questa di qui non sappiamo, non sappiamo al giorno d'oggi se possa essere considerato o meno un capolavoro, questo sarà il tempo a dirlo, ma, secondo me, chiaramente, opinione totalmente personale, ha tutte le caratteristiche per poterlo diventare, ha tutte le caratteristiche per poter aver scritto un'altra importante pagina della storia del cinema, per aver scritto un'altra pagina importante nella storia dei musical, perché è davvero un film che probabilmente non sarà perfetto, ma se non è perfetto è davvero eccezionale, a livelli altissimi, e lo dice davvero uno che non ama i musical, ma sono rimasto totalmente incantato dal film di Spielberg, ne sono totalmente rapito, è un film che rivedrei anche dopo domani, che non mi ha stancato in nessun modo, ovviamente, anche se dura due ore e trentacinque, più o meno, non mi ha stancato, mi ha entusiasmato, mi ha coinvolto da un punto di vista emotivo, mi ha strabiliato per quello che è la componente tecnica, perché del resto abbiamo Spielberg dietro la macchina da presa, non l'ultimo dei cretini, come ho detto poc'anzi, è un film che funziona a tutti i livelli, funziona da un punto di vista registico, mi ripeto, sarò banale, ma davvero ruba l'occhio quelle che sono le inquadrature, i movimenti di macchine, i piano sequenza, la messa in scena, anche da un punto di vista delle scenografie, ovviamente, dei costumi, di quella che è la presenza scenica degli attori, la gestione anche di tutto il cast, di tutte quelle che sono le comparse, di tutti quelli che sono i coprotagonisti, tutti coloro che entrano in scena, in ogni singola inquadratura di questo film, sanno benissimo che cosa devono fare, e Spielberg, dietro la macchina da presa, è davvero a suo agio, come sempre, davvero un grande maestro, e riesce a far sì che il film, nonostante abbia una durata non irrilevante, perché dura appunto due ore e mezza e più, in realtà sembra durare 20 minuti, sembra durare mezz'ora, perché è un film che scorre via in una maniera lineare, in una maniera meravigliosa, chiaramente, con tutte quelle che sono le componenti del musical, quindi scene parlate, scene dialogiche, scene cantate, scene ballate, è ovvio che ha un'impostazione anche classica, tipica dei musical, appunto, dei decenni scorsi, ma si respira un'area di modernità, un'area attuale, un modo di far cinema che è, ovviamente lontano da quello degli anni 60, Spielberg mette a disposizione davvero tutta la sua esperienza, per dar vita, secondo me, davvero ad un'opera d'arte, io mi sbilancio, voglio sbilanciarmi, probabilmente il tempo mi smentirà, staremo a vedere, ma il West Side Story di Steve Spielberg, come ho già detto poc'anzi, ha scritto un'altra pagina importante di cinema, ne sentiremo parlare anche negli anni a venire, anche considerando il fatto che il musical ormai da diverso tempo, non è che sia più un genere particolarmente gettonato, sì, abbiamo avuto La La Land, che ha in qualche modo creato Scalpore qualche anno fa, ma non è che ormai il musical sia, come dire, considerato un genere prioritario da parte degli sceneggiatori, da parte dei registi, tutt'altro, nonostante questo, come dire, Spielberg ha fatto il botto con West Side Story, ha fatto nuovamente capire quanto il genere musical, che ripeto io non amo, ma quanto il genere musical in realtà possa ancora regalare tante soddisfazioni, a chi lo realizza, ma anche tante emozioni agli spettatori, ovviamente, ma possa regalare anche tanti spunti di interesse da un punto di vista dei temi che vengono affrontati, tanti spunti di interesse anche proprio da un punto di vista strettamente tecnico, perché, come stavo dicendo, le scenografie di questo film sono straordinarie, è ovvio che in questo film abbiamo sicuramente una componente di computer grafica che non avevamo negli anni Sessanta, perché negli anni Sessanta, come ho detto poc'anzi, gli strumenti e i mezzi a disposizione erano diversi, ma mi sembra anche, come dire, stupido doverlo dire, quindi abbiamo degli strumenti a disposizione di Spielberg che hanno fatto sì che il film potesse avere davvero una maestosità nella sua messa in scena che Sessanta anni fa non potevamo avere, nonostante in realtà poi negli anni Sessanta si facevano comunque grandi cose, ma il film davvero è maestoso sotto ogni punto di vista, maestoso per quanto riguarda la gestione delle scenografie, la gestione della fotografia di questo film, è una fotografia che mi ha rubato l'occhio perché? Perché allo stesso tempo, e credo che questo rappresenti proprio la summa del film di Spielberg, riesce ad essere una fotografia in grado di richiamare quelli che sono i stili tipici dei decenni scorsi, tanto che infatti il film ha comunque un'impostazione visiva, estetica, propria dei film degli anni Sessanta, comunque dei decenni scorsi, ma allo stesso tempo è un film straordinariamente moderno, proprio per quanto riguarda la messa in scena e per quanto riguarda proprio anche l'aspetto che il film assume agli occhi dello spettatore. È un film poi che è, ovviamente, banale dirlo, è esaltato da una colonna sonora meravigliosa, da delle canzoni che hanno scritto la storia del cinema, qui lo possiamo dire, quindi Spielberg riesce a maneggiare con grande cura quello che è il materiale, anche musicale, a sua disposizione, con quelle differenze che dovrei andare ad approfondire ulteriormente proprio per avere maggiori certezze, o comunque dovrei rivedere il film degli anni Sessanta, però nonostante queste differenze, nonostante tutto, in realtà il film scorre via in maniera gradevolissima, anzi più che gradevole. Il film funziona, funziona a meraviglia, anche grazie chiaramente a dei personaggi che sono stati scritti nuovamente in maniera perfetta e sono stati interpretati in maniera eccezionale dai vari protagonisti, dai vari attori protagonisti. Ora, io sono davvero rimasto estasiato da tutto, io credo che questa recensione difficilmente potrà assumere i caratteri dell'oggettività, perché al momento non riesco neanche a focalizzare l'attenzione sui possibili difetti del film, sulle possibili problematiche, è un film che chiaramente rivedrò anche altre volte proprio per poterlo approfondire, e soprattutto voglio rivedere anche il film degli anni Sessanta, per poter non fare un confronto, lo ripeto, non c'è da fare confronti di nessun tipo, ma anche per cogliere quelle differenze sottili, più o meno eclatanti in realtà, che sono presenti tra le due versioni, ma davvero è un film che mi ha lasciato a bocca aperta, è un film che mi ha incantato, è un film che mi ha meravigliato, nonostante, ripeto, io non sia un grande amante dei musical, sono rimasto incollato davanti allo schermo fino alla fine. Non voglio rivelarvi chiaramente nulla per quanto riguarda la parte finale del film, ma anche lì, vabbè, ci si emoziona inevitabilmente anche in questo caso. Un film straordinario, un film che impedisce in questo modo appunto di parlarne con oggettività, perché tutto quello che possono essere le problematiche, i difetti, le caratteristiche magari meno convincenti di questa pellicola, al momento non riesco a focalizzarle, quindi se eventualmente voi siete tra i detrattori, o comunque se avete trovato delle problematiche in questa pellicola, fatemele sapere qui sotto tra i commenti, perché mi aiuterà comunque a guardare il West Side Story di Steve Spielberg con una maggiore lucidità e con una maggiore oggettività, però io al momento non posso che consigliarmene la visione, soprattutto se siete degli amanti dei musical. Se siete degli amanti dei musical, a patto che non siate dei puristi, a patto che non siate, diciamo, delle persone con i paraocchi, che, beh, i remake fanno schifo, punto e basta, spero di no, ma se non siete delle persone del genere, vi consiglio di dargli un'occhiata, perché potreste davvero rimanerne incantati come il sottoscritto, o anche di più, perché se siete degli amanti dei musical, probabilmente davvero vi luccicheranno gli occhi di fronte a quello che è stato in grado di fare Steve Spielberg. Davvero un film meraviglioso, non mi aspettavo un film davvero così bello, l'ho trovato, l'ho trovato e me lo tengo stretto, proprio perché non è una qualcosa di frequente che si può trovare al giorno d'oggi per quanto riguarda i musical, quindi davvero una meravigliosa scoperta, una meravigliosa pellicola, che rimpiango di non aver visto al cinema, quando uscì nelle sale un paio di mesi fa, però tante, ormai l'ho fatto, ormai è stata così, è andata così, va benissimo averlo visto in streaming su Disney+, spero che possa arrivare presto anche in Blu-ray, perché sarà sicuramente un film che aggiungerò alla mia personale collezione, perché ci tengo davvero. Grandissimo film, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ripeto, questa non è stata una recensione classica, perché probabilmente qualcosa l'ho dimenticata, qualche elemento ho dimenticato ad approfondirlo, ho voluto lasciarmi andare più che altro all'entusiasmo genuino, che è dettato proprio dall'aver visto il film qualche ora fa, un paio di giorni fa in realtà l'ho visto, quindi davvero, volevo parlarvi il prima possibile, anche per sapere che cosa ne pensate voi, per sapere se condividete o meno il mio entusiasmo per questa pellicola, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, tra i commenti, perché come sempre vi leggerò con molto, molto piacere, e eventualmente ne parlerò in maniera dettagliata in un prossimo video, magari in una delle doc news, magari creerò delle rubriche apposta per poter riaffrontare dei film che ho già recensito, vedremo, magari sarà un'idea per il futuro, però fatemi sapere che cosa ne pensate voi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto, tra i commenti. Come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e qualunque vostro acquisto chiaramente fatelo attraverso il link di Amazon presente qui sotto in descrizione, così una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Io vi do l'appuntamento anche ad un prossimo video, ad una prossima video recensione, oppure anche nella mia pagina Facebook Doctor Cinema, alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi come sempre, vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto. E viva Steven Spielberg, viva Steven Spielberg. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.